Due parole, se riesce, perché è molto difficile parlare con voi. Allora, che dire, siamo in un momento annonico molto particolare, insomma, basta vederci qua con queste maschere in una situazione, direi, surreale. Una cosa bella però è che nonostante tutto quello che sta succedendo abbiamo ancora la voglia, cioè chi ha ancora sempre la voglia, comunque mi fare del bene al territorio. Questo lavoro sarà qualcosa di importante perché, insomma, è un'opera d'arte, no? Un'opera d'arte che segna qualcosa e che rimane. E che voi state, giustamente, come ha detto Sipana, donando al territorio, rendendolo, quindi, più bello. Ma non solo, questo lavoro è sempre stato oggetto di affissioni abusive, di atti che non ci piacciono, di manifesti che io stessa sono venuta a staccare perché erano messaggi bruttissimi, che non ci piacciono. Quindi, rivolizzarlo e metterci qualcosa che è bello, che è bello nel messaggio, che è bello esteticamente, è sicuramente anche un deterrente a tutte queste manifestazioni ed è anche un qualcosa che vuole dire che noi ci siamo e ci siamo con certi messaggi. Dunque, grazie per quello che state facendo, grazie veramente. Noi non potremmo che appoggiare questo lavoro e che sia anche l'inizio, non solo di questo lavoro e di quest'opera d'arte, ma sia l'inizio anche... Noi speriamo di uscire al più presto da questa situazione in cui speriamo e che, insomma, di riuscire a venire di nuovo senza queste mascherine e ad abbracciarci magari, invece come oggi, di cercare la distanza l'uno dagli altri. In questo momento la nostra vicinanza, il nostro stare vicini, purtroppo è solo di mente, è solo di tempo, ma speriamo di riuscire a riparlo anche presto in fisica. Grazie a tutti.